Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale YouTube. Volevate passare delle vacanze tranquille e serene? Invece no, la Juventus ha deciso di no. Innanzitutto un mi piace e un commento qui sotto nel video per far vedere che supportate il mio lavoro al 100% e oggi facciamo un giochino molto particolare. Nel video che ho caricato in pausa pranzo ho parlato, lo trovate comunque qua sopra nelle schede insieme a tutti gli altri, ho parlato del Pogback, ok? Ve l'ho detto, siamo nel campo delle illazioni, ormai mi viene da ridere perché l'avete trasformata in un tormentone, per me era una frase così tranquilla, così banale, invece diventata qualcosa del genere. Siamo nel campo delle illazioni, non riesco a rimanere serio, però è giusto sperarci, è giusto sognare, è giusto crederci. Non so se la Juventus avrà effettivamente la potenza per fare questo colpo, ma comunque ne ho parlato nel video, andate qui sopra al termine di questo e andatevi a vedere quell'altro. Oggi però parliamo di come potrebbe essere la Juventus di Sarri con Cristiano Ronaldo, Pogba e Rosa, secondo il mercato aggiornato in questo momento, perché comunque un video molto simile l'avevo già fatto prima dell'inizio del mercato, ovviamente con le trattative che si sono poi incastrate, tutto questo è cambiato, perdonatemi se leggerò un qualche appunto perché le grafiche che vedrete poi nel video le ho salvate qui sopra, iniziamo subito con la formazione titolare schierata con un 4-3-1-2, bam, eccola qua, perché Sarri ha detto che una volta sistemato la difesa, una volta sistemato il centrocampo, ovviamente la porta la sistemerà un po' la difesa, un po' il portiere, davanti ci sarà libero arbitrio, i giocatori saranno liberi di svagare, di girare, di fare quello che vorranno, perché è giusto lasciare, ancora una volta liberi, di creare i giocatori con più fantasia, con più tecnica, con più coraggio, ok, Cristiano Ronaldo, Dybala, Wayne, comunque chi saranno, tra l'altro questa formazione, questa 4-3-1-2 potrebbe essere anche la formazione più logica in assoluto, va bene, Scesni tra i pali, Chiellini e De Litt saranno la coppia centrale titolare, con Bonucci pronte a subentrare, abbiamo anche De Mirale e Rugani, comunque ne parleremo nella formazione delle riserve che è subito dopo questa, a sinistra Alexandro perché in questo momento sembra il confermato, Spinazzola è andato via, è arrivato Pellegrini, anche di questo parleremo poi, potrebbero essere questi due terzini sinistri che avremo alla Juventus, a destra Danilo, perché in questo istante Cancelo e Danilo sembrano pronti a scambiarsi le maglie, quindi Cancelo al Manchester City, per Danilo è 30 milioni di euro, la Juventus farà plus valenza, la Juventus venderà, però avrà anche già un giocatore pronto per sostituire proprio il partente terzino destro e avrà del denaro fresco da reinvestire sul mercato, dove probabilmente proprio nel colpo Pogba, per quanto mi riguarda, o almeno come farei io, se fossi paratici farei questa cosa, andrei a prendere questi soldi e li andrei a investire su Pogba. Pjanic e Mre Can sono gli altri due, Pjanic avanti la difesa, lo sappiamo, Sarri vuol far ritoccare i quei famosi 150 palloni a partita, per quanto mi riguarda in questa microvele estive mi è piaciuto tanto il ruolo di Pjanic, l'ho visto molto più veloce a gestire i palloni rispetto all'era Allegri, non so se è stata una casualità, se è stato invece studiato nel dettaglio, probabilmente così, vedremo poi nelle partite ufficiali, non credo che Pjanic lascerà la Juventus a questo punto e spero che Mre Can potrà essere il suo compagno. Dovessimo giocare con il rombo, abbiamo bisogno dei terzini e delle mezzali che si inseriscono e due mezzali forti tecnicamente e forti fisicamente come Pogba ed Mre Can, che sono dei centrocampisti coast to coast, di quelli che si buttano dentro e fanno la differenza, guardate, sono veramente i due centrocampisti che inserirei alla grande, d'occhi chiusi in un modulo del genere, con questo modo di giocare. Pochi pipipipipipipi, avanti e indietro, questi che si buttano dentro, che tagliano, vanno a fare gli attaccanti, vanno a supportare gli attaccanti, si buttano negli spazi. La prima Juve di Allegri, quella che è arrivata a Berlino e ha perso contro il Barcellona, era molto simile perché aveva Pogba da una parte, Marchesio dall'altra e Vidal che faceva il finto trequartista. Ma Pogba e Marchesio hanno fatto tanti gol quell'anno proprio perché si buttavano dentro. Marchesio un po' meno, Marchesio nella prima Juve di Conte invece ha fatto sfracelli, ma proprio perché erano mezzali di inserimento. Ma Tudin non lo è, Kedira lo è stato, ma probabilmente ha perso quello smalto, ha perso un po' di lucidità. Non so se lo saranno davvero Rabiu e Ramsey, lo vedremo. In questo momento però mi immagino Pogba e Marchesio che veramente fanno i disastri come mezzali di centrocampo, sono veramente degli attaccanti aggiunti. Bernardeschi dietro le punte, qua poi potranno girare i vari Dybala, Bernardeschi, Rabiu, Ramsey, non lo so, anche Pjanic probabilmente però. Lì ci vuole un uomo di qualità, in mezzolinea ci vuole veramente un uomo di qualità e mi immagino che per far coesistere Dybala a Cristiano Ronaldo, quindi loro due davanti, serva questo schieramento tattico. Questo è un universo utopico nel quale Dybala rimana la Juventus e Pogba arriva la Juventus. Io non so neanche se è sostenibile una cosa del genere a livello economico, di costi, di ingaggi, di stipendi, di tutto, di tutto. Però voglio provare, immaginarmi come potrebbe essere la Juventus migliore possibile da qua alla chiusura del mercato. E c'è solamente un acquisto da fare ed è quello di Pogba. Cristiano Ronaldo non spenderei parole, su Dybala abbiamo già parlato fin troppo, quindi andiamo a vedere subito la Juventus delle riserve, che è la seguente, eccola qua. Con Buffon in porta, Demirale e Bonucci, come abbiamo detto, sono i giocatori di riserva. Poi c'è anche Rugani, io non so se uno tra Rugani e Demirale e Bonucci sarà allontanato da Juventus, sarà ceduto in questi ultimi giorni per fare cassa. Non lo escludo, soprattutto se dovesse davvero concretizzarsi questo spiraglio di trattativa per Paul Pogba. Perché la Juventus avrebbe bisogno di prendere dei soldi freschi sul mercato. Mi immagino De Sciglio a destra, il nostro caro De Sciglio che fa la riserva di Danilo, poi io non ho idea. Non mi piace tanto Danilo. Non so se sarà veramente titolare, potrebbe addirittura esserlo De Sciglio. Questo lo vedremo. So che per tanti questa è una bestemmia, anche a me non può impastire l'idea, però se la Juventus decide di cedere Cancelo per motivi economici, magari davvero per dover tornare sul mercato, magari davvero per affondare il colpo a Pogba, ecco, in questo caso sarei davvero d'accordo con la cessione di Cancelo per acquisire quel denaro che serve a far arrivare il polipo nuovamente a Torino. Pellegrini a sinistra. In questo momento non mi aspetto delle grandi rivoluzioni sull'auto di sinistra a basso da parte della Juventus, quindi credo che Alessandro e Pellegrini saranno i due che si alterneranno. Rabiot Ramsey e Bentancur sono comunque tre giocatori che possono essere inseriti anche nei gradi di titolari, nel centrocampo che abbiamo visto nell'infografica precedente. Molti di questi, se non tutti, forse probabilmente potrebbero addirittura fare l'uomo dietro le linee, il trequartista. Qua ci sarà un po' da vedere. Per quanto mi riguarda, Bernardeschi potrebbe essere un'ottima soluzione. Mi piacerebbe tanto vedere Ronaldo ribala a Bernardeschi. In questo momento non ci sarebbe nemmeno bisogno di andare a prendere Icardi o Lukaku o chi per loro, perché Iguain potrebbe rimanere alla Juventus come riserva, come primo attaccante in grado di subentrare. Poi ci sarebbe un quadrado, un quadrado che può ricoprire anche il ruolo di terrestre e destro. All'evenienza, se proprio Danilo è una schiappa, De Sciglio è De Sciglio. Arretriamo un quadrado e ci guardiamo, anche se per quanto mi riguarda è una soluzione un po' inventata. E poi c'è Douglas Costa. Perché non è titolare Douglas Costa? Perché per quanto mi riguarda Douglas Costa è uno di quei giocatori, quante volte l'ho detto Douglas Costa, continuo a dire Douglas Costa, di quei giocatori che serve per spaccare la partita. Serve inserirlo quando magari non sei proprio convinto che il risultato rimarrà a tuo favore, e quindi mette dentro un uomo per spingere addirittura di più e difenderti in avanti, che è quello che vuol far Sarri, oppure per spaccare le partite che sono bloccate sullo 0-0, 1-1, 2-2, insomma, quando il pareggio non ti va bene, o per rimontare addirittura, perché ovviamente sappiamo bene che Douglas ha uno scatto fulmineo, ha un dribbling da paura, però non è continuo sui 90 minuti. E diciamo anche che gli infortuni, la tenuta fisica non è proprio eccellente. Quindi Douglas può essere l'undicesimo giocatore che tutti sognano. Quando qualcosa non va, o quando qualcosa comunque va, ma vuoi dare il tutto per tutto proprio per uccidere l'avversario, Douglas, dai, scaldati. Vai, vai a far mezz'ora, vai a far mezz'ora, in cui porti a spasso a tutti i difensori, in cui spacchi le difese avversarie, in cui facciamo i contropiedi, in cui facciamo i macelli, ribaltiamo le partite, le risolviamo, le vinciamo. Sarebbe l'undicesimo giocatore ideale. Come gradi da titolare? Non lo so. Non lo vedo neanche troppo bene nel 4-3-1-2, ma ovviamente puoi modificarlo, proprio perché Sarri ha detto là davanti, i tre che giocheranno davanti, e Sarri vuole sempre tre uomini davanti, se la gestiscono loro. Quindi a seconda di chi vai a schierare, quindi magari se giochi col 4-3-3, sta giù di bala, va su Douglas Costa, perché sono i due giocatori che si intercambiano, perché Bernardeschi può fare se il trequartista di bala nel gioco di Sarri non credo possa fare l'esterno, potrà fare magari il centravanti, anche se probabilmente in quel caso è meglio Wayne, quindi avresti veramente uno schieramento organico, uno scheletro con il portiere, i quattro difensori, Sarri è escluso categoricamente la difesa 3, i tre centrocampisti, e poi vedi, a seconda di chi devi far giocare, a seconda di chi è a disposizione, a seconda della squadra che vai a incontrare, a seconda dello stato di forma dei giocatori, a seconda di tantissime cose, vuoi giocare col centravanti? Giochi con Wayne, vuoi giocare con le due punte? Hai di bala Ronaldo, o di bala a Wayne, o Ronaldo a Wayne, vuoi giocare con il tridente? Benissimo, hai Bernardeschi quadrado, hai Douglas Costa, hai Cristiano Ronaldo, poi puoi mettere di bala a fare il falso 9, hai veramente una marea di soluzioni, in questo caso, con questo schieramento, con questi giocatori, con questo mercato, la Juventus potrebbe benissimo inventarsi, assolutamente, ogni tipo di formazione, a seconda della giornata, a seconda dell'umore, a seconda dello stato d'animo, e credo che sia anche qualcosa di positivo, perché comunque, là davanti, puoi sempre creare una situazione di pericolo costante per ogni squadra, perché non saprà mai come venirti a fronteggiare, non saprà mai chi scenderà in campo, come si metterà la Juventus, l'importante è ruotare i giocatori, tenerli sempre sul pezzo, e non so se Sarri sarà bravissimo a fare questa cosa, e gli voglio dare fiducia, questo ricordiamolo, è un universo utopico, l'angolo delle illazioni, completamente, l'universo delle illazioni, in cui la Juventus fa questo mercato, da qui alla fine del calcio mercato, appunto, con solamente un acquisto, Paul Pogba, e con poche eccessioni, perché avremo comunque Pinsoglio e Rugani, che non sono presenti nelle grafiche, che abbiamo visto, però, però avremmo poi da cedere, Manzuki e Ciamatudi, proprio al Manchester United, Cancelo per Danilo e Soldi, che potrebbero finanziare, l'inserimento di Paul Pogba, e poi che abbiamo? Abbiamo Chedira, da scaricare, e se proprio non ce la facciamo, e se proprio dobbiamo andare via qualcuno, possiamo sempre giocarci, uno tra Dybala e Wayne, che tra l'altro, e Wayne lo porrei pure al Manchester United, che magari potrebbe essere, dispirazionato, che se poi dà un via Lukaku, serve un centro avanti, ma anche qua, 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 non è l'universo delle illazioni, cioè siamo proprio tuffati, di testa all'interno delle illazioni più dotali, però fatemi sapere anche la vostra opinione qui sotto, ripeto, è un gioco, però guardate che bello sognare, come potrebbe essere la Juventus, con un solo acquisto, un solo acquisto da quella fine del mercato, poi sono disposto a sacrificare Dybala, sono disposto a sacrificare Wayne, Manzukić, Matuidi, Chedira, Cancelo, va bene, li do via tutti questi qua, se serve per finanziare quel colpo, li do via tutti, perché veramente, l'unica casella che ci rimane da riempire, è un centrocampista, con quelle caratteristiche, prendimi Kanté, voglio Kanté, Sarri l'allenato, ok? Telefonata a Londra, se non si può Kanté, Pogba, ma io non è che farei tanto lo schizzinoso, perché sono due giocatori fortissimi, due campioni del mondo, ne diamo via un altro, ne diamo via Matuidi per prendere uno di questi due, da questo momento in cui le mie preghiere si concentreranno unicamente su questo, un solo acquisto, Pogba, sarebbe bellissimo Pogba, avete visto che squadra che viene fuori? Fatemi sapere qui sotto le vostre considerazioni, perché io sto veramente iniziando a sognare occhi aperti, e non doveva venire fuori questa notizia di Pogba, questo leak di un avvicinamento di Pogba alla Juventus, avvicinamento, questa addirittura è una parola troppo troppo grossa, di questo interessamento ipotetico, ipotetico della Juve per Pogba, sarebbe un sogno, sarebbe mamma mia, delete Pogba Cristiano Ronaldo di Bala, no vabbè, smetto perché sennò è iaculo addosso al telefono.